L'incidente nella serata di giovedì 11 maggio, poco dopo le 18, in via San Graudo a Valperga. Un uomo, classe 1964, è precipitato, pare di un terrazzamento nella sua proprietà, compiendo un volo di circa un paio di metri. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte e il soccorso del 118, che è atterrato sulla strada che conduce Partusio. L'uomo, dopo le prime cure, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino in codice giallo. Non è in pericolo di vita.